Sì, un pareggio tra Empoli e Fiorentina, mi ha giocato una buonissima partita dopo la rete delle Viola, abbiamo reagito, abbiamo trovato il pari, abbiamo costruito tante occasioni da gol, anche due traverse per noi, una per tempo. Sì, noi abbiamo giocato una buona partita, sono contenti con questo risultato, noi vogliamo fare di più, di più gol, ma sono contento con questa partita. Una prova molto positiva per te, hai preso una traversa come dicevo prima, hai fatto anche un assist, quello per Cinotti che ci ha regalato il pareggio. Sì, ho tirato in porta sulla traversa, ho fatto anche un assist a Cinotti, sono contenta con questo assist perché è molto importante per noi, per questo pareggio. Ultima cosa, perché stiamo vivendo un momento molto positivo in generale a livello di squadra, nelle ultime cinque partite ne abbiamo vinte due, pareggiate due, soltanto una sconfitta, quindi la squadra sta andando bene. Noi stiamo andando bene con questa squadra, noi crediamo tanto in questo campionato e devo fare di più.